Grazie a tutti La stessa pubblicità è dentro Peccato però che non si è proprio sfilato completamente il vestito Barbara ci sei? Scusa quanto hai bevuto? Poco No perlomeno abbiamo capito perché ogni tanto sarà delle uscite un po' strane Forse si attacca pure alla bottiglia Ecco quell'altro pure va eliminato comunque anche Mattia Ma Mattina non ho pure nessuno che può votare Armando non puoi votare più vota Gianni Ecco neanche lui perché adesso tu devi dire quel quattro Scusa Gianni portati direttamente la paletta non gliela dare più Portala qui basta tu non devi votare basta Quindi nove, dieci, sette, Gianni che voto dai? Sei sicura? Allora c'è un problema qua Che anche Gianni ha un'antipatia forte per me E quindi Allora c'è un'antipatia forte per me